Il mercato secondario dell'EFR in Italia vive in una fase di estrema vivacità in questi anni, caratterizzata da attenzione agli asset che ormai hanno raggiunto una certa maturità, si pensi all'eolico dove alcuni degli impianti stanno ormai raggiungendo la fase di fine vita o il phase out dalla fase incentivata e sul fotovoltaico dove gli asset principali, le utility scale hanno ormai il 30% di vita spesata. Quindi una fase in cui l'attenzione è sempre più volta all'estrazione del valore durante la fase operativa e da un punto di vista tecnico l'elemento che sta emergendo in tutta la sua importanza è il fine vita degli asset, la valorizzazione degli asset stessi a fine vita e l'implementazione di soluzioni tecnologiche che permettano o un prolungamento della vita o soluzioni di repowering con tutto quello che poi comporta il tema autorizzativo e legato alle autorizzazioni anche del GSE. Il mercato secondario continuerà a creare opportunità di aggregazione, siamo soltanto all'inizio di un percorso di consolidamento che vede ancora sia il fotovoltaico in maniera minore ma anche l'eolico molto frammentato e quindi ci saranno continue opportunità di aggregazione. Un processo che non prevedo sarà velocissimo ma che a mio modo di vedere nel giro di qualche anno arriverà ad interessare una dimensione non più soltanto nazionale ma europea. Grazie a tutti.